Amici, video, spettatori del Subvotoclub Realtipolitania Channel, buonasera. Stiamo trasmettendo adesso la cerimonia di premiazione del vincitore del campionato di Serie A Team 2016-17 che è stata la Lazio di Bernardo Bambini e il vincitore della classifica dei cannonieri. Il vincitore della classifica dei cannonieri, vinto da Baneca con 12 punti, 12 gol. E allora iniziamo subito con la premiazione del capo cannoniere, capo cannoniere Baneca, lo premia Lorenzo Airoldi. Allora ecco la premiazione, bravo, dobbiamo dire una cosa importante, è la seconda volta che Alessandro Di Tullio vince la classifica dei cannonieri. Un complimento veramente, bravo, bravo, bravissimo. Adesso si procederà alla premiazione del primo classificato a sorpresa. Diciamo che quando è iniziato il campionato nessuno voleva pensare che la Lazio di Bernardo Bambini potesse arrivare così in alto. I favoriti erano il Milan di Simone Tullio, la Juventus di Lorenzo Airoldi, anche se è iniziato quest'anno con noi ma è stata la forza di questo allenatore. Anche Lorenzo Sintilla era uno dei favoriti, Alessandro Di Tullio e Lucio Inter era favorito, ma non era sicuramente Bernardo Bambini, e bene assoluto tutti. E' stato prima il campione d'inverto e poi ha fatto una nuova scena una vera vincosa, con 45 punti ha staccato e ha messo dietro sia Lorenzo Airoldi con la Juventus, 44 punti, sia Simone Tullio con il vino a 43. Gli altri a distanze siderali, il primo dei quali la Juventus ha 45 punti, quindi se ne america tutto. E quindi adesso festeggiamo, festeggiamo Bernardo. Adesso il Presidente Raimundo Claudio, premiera il vincitore del campionato 2016-2017, Alassio Bernardo Bambini. Bravo, bravo, meritatissimo, bravissimo. Tutti e tre, tutti e tre, insieme, i fisici tre, classificati. Medaglia loro, medaglia dal Genta e dal Gio di Proggio, bravissimi. Bernardo, l'amico Loso Nazio, Lorenzo Airoldi con il Juventus, Simone Tullio con il Milan. Tutti e tre, vi rivedremo il prossimo anno, i 100 slip, per una Champions ancora più bella, ancora più divertente. Sempre più bella, sempre più divertente, con il nostro circuito dell'estero, Real Primo d'Italia. Evviva, buonasera e arrivederci a domani.